Mi sento a casa con Rafa Benitez qui alle mie spalle, siamo come vedete nel centro storico di Napoli, siamo pronti a raccontarvi l'arte presepiale con Marco Ferrigno, entrate insieme a noi nel mondo del Natale con gli amici di Ferrigno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Marco, per il Natale c'è questa tradizione chiara, classica, quella del presepe, ti vedo con alcuni personaggi che quest'anno immagino siano tra i più venduti. Sì, quest'anno come vedi ce ne sono un po' di più rispetto agli altri anche per le varie vicende che sono accadute. Il più venduto in assoluto Papa Francesco, amatissimo e vendutissimo, devo dirti la verità. L'ultimo è il compianto Nelson Mandela che veramente merita un posto d'onore nel nostro presepe. Poi c'è l'altra faccia della medaglia, c'è Balotelli. Attenzione, in versione nazionale, per cui va bene per tutti. Lo facciamo anche in versione Milan. Per i tifosi del Milan, insomma qui a Napoli non ci sono ma siccome viene gente da tutta Italia. Si vende anche abbastanza bene, devo dire la verità. Poi l'ultimo in ordine di tempo Berlusconi col suo cane Dudu, come puoi notare, ma addirittura abbiamo estrapolato anche il cane che vendiamo. Cioè tu mi dici che praticamente la gente viene qui e ti chiede solo di Dudu? Sì, ci sono persone che chiedono solo Dudu. Pazzesco, quindi il cane Dudu nel presepe anche quest'anno. E poi chiaramente? Un mito un po' più internazionale, Steve Jobs. Col suo iPad in mano? Sì. Assolutamente. Già tutte pronte queste statuette per le tue interviste in Rai, so che andrai nei prossimi giorni anche a 1 mattina. Domani mattina sono a 1 mattina dove appunto mi hanno chiesto dei vari personaggi di attualità e metterò anche tra di loro la conduttrice Lorella Landi. Tu sei sempre in giro per il mondo a raccontare chiaramente quella che è l'arte presepiale napoletana. Sei anche il portaportura del Napoli, io lo posso dire, perché so che molti calciatori hanno ricevuto a te la statuina. Come riesci a fare i personaggi? Che cosa ti ispiri? A delle fotografie? Li guardi dal vivo? Cerchi di avere una loro foto su più punti e da più punti di vista o la tua arte ti rende molto più facile? Tutto nasce da tre foto. Ne abbiamo bisogno di due di profilo, una frontale e poi da lì sviluppiamo il prototipo del pastore. Li abbiamo fatti, come dici tu, in diverse misure. Addirittura ti racconto un'aneddota. Adesso la signora Berami me ne ha ordinato. È un set di dieci da distribuire ai vari parenti e famigli. Quindi abbiamo fatto una versione ridotta per darle proprio agli amici. Bene, bene. Magari glieli consegneremo e saremo anche noi con le nostre telecamere presenti in quel giorno. Fa benissimo. Chissà. Va bene. Marco, non resta che salutare gli amici di contatto con il nostro saluto, quello col dito ufficiale. Quindi metti il ditino qui e entriamo in contatto. E le immagini chiaramente sempre dal tuo negozio, dal tuo store che è all'interno del centro storico di Napoli. Quindi non potete assolutamente perderlo. Vorrei approfittare per fare degli auguri di Serino Natale per tutti quelli che ci ascoltano. Grazie mille, grazie mille a Marco Ferigno. Guardate le immagini all'interno dello store che è davvero straordinario. Ciao, contatto! Ciao, contatto! Oh, my love is all of me Oh, and my love is guaranteed I don't want to bring you anything Oh, I don't want to bring you No, darling Questi sono solo alcuni dei personaggi che potete vedere venendo qui da Marco Ferrigno alcuni dei personaggi famosi che Marco ha realizzato in maniera eccezionale Con loro noi vi salutiamo, un abbraccio, buon Natale a tutti da Contatto Television Ciao!